Musica Bentornato Goodlier, bentornata Andiamo ora a visionare la criptografia Infatti torniamo a parlare di sicurezza E' una sezione del pannello di controllo Che se viene impiegata ti consente di tutelare tutti i file che hai archiviato Su un disco rigido o su altra periferica La sezione è denominata criptografia unità BitLocker Premetto che questa funzionalità del sistema operativo E' presente soltanto in alcune versioni di Windows 7 Quelle più complete Ma comunque anche se in alcune non è presente Ho deciso di descrivere questa funzionalità In quanto la sicurezza gioca, ahimè, un ruolo determinante nel mondo informatico Ma cos'è questa criptografia? E' in pratica un programma di protezione di file e cartelle Tramite una procedura che va a criptografare questi file e queste cartelle Però non va a criptografare specificamente il file o la cartella Ma rende inaccessibile la partizione o i dischi rigidi del tuo computer Ciò appunto al fine di non far visionare i file e le cartelle All'interno di questa partizione o di questo disco rigido In questa immagine puoi vedere il tentativo di accedere all'unità criptografata Il sistema operativo ti risponderà con un alert di impossibilità di accedere alla periferia Facciamo un esempio se vuoi banale E' come parlare una lingua diversa Che è conosciuta soltanto agli interessati allo scambio delle informazioni Che sono fornite dal dialogo correlato a quella specifica lingua Quindi le persone che sono nelle vicinanze delle altre che parlano questa lingua sconosciuta Non potranno comprendere il contenuto La sua azione non è riferita come detto al singolo file o alla cartella Ma all'intera unità che contiene i dati memorizzati Quindi l'intera partizione o l'intero disco rigido Se non è partizionato naturalmente Qui in visione tramite questa immagine abbiamo la realizzazione di una criptografia Di una partizione di prova In pratica nel momento in cui verrà criptografata questa partizione Avrai questo lucchetto e questa scritta attivato Che ti indica che la criptografia è stata completata per questa specifica partizione Mentre per le altre presenti all'interno di questo computer non è ancora attiva A nostro livello domestico ti potrebbe venire in mente che non sia utile tale funzionalità Ma credi di non aver nulla, proprio nulla all'interno del tuo computer Che possa interessare a qualcuno? Facciamo qualche esempio Hai qualche documento passato allo scanner sul tuo disco rigido Qualche documento di identità? Hai memorizzate nell'hard disk le credenziali di accesso Intese come nuovo utente, password, PIN Qualcosa del genere per quel che riguarda tutti i vari account Hai scaricato le tue mail sul computer Qualche tua cartella clinica o nei verti medici Sono in vari formati registrati nel tuo disco rigido Foto, video personali Credo saranno sicuramente presenti nel PC Bollette restranti di conto Magari visto che ora sono sempre più in formato informatico Suppongo che li hai proprio lì, nel disco rigido Se hai un'azienda ad esempio Qualche file di amministrazione della stessa Di certo li stamperai Ma non credo proprio che li cancellerai definitivamente Dal tuo disco rigido Non è vero? Il profilo della tua vita Insomma, all'interno del computer All'interno dei dispositivi informatici Oggigiorno c'è molto della nostra vita Solo per farti prendere coscienza E non per spaventarti In modo che tu possa esserne cosciente E utilizzare le contromisure necessarie Per ridurre i rischi D'accordo? Ma come funziona questa criptografia? È una funzione, come ti ho detto Che ti permette di criptografare Una partizione o disco Rendendolo inaccessibile Supponi di avere una partizione In cui all'interno Metti tutti i due dati sensibili Una volta che avrai attivato la criptografia Avrai reso inaccessibile Tale partizione A tutti gli udenti Oppure gruppi eventualmente creati Che non hanno l'autorizzazione Solo tu, in quanto amministratore Sarai in grado di accedere alla partizione E quindi essere in grado di poter esplorare I vari file e cartelle Come? Avviando la procedura Seguirai dei passaggi Abbastanza semplici Molto intuitivi Che ti porteranno ad eseguire delle impostazioni Una possibilità è quella di inserire Una password di lunghezza variabile Che ti consentirà di accedere Se digitata Alla partizione del disco rigido Una volta che è stata criptografata Naturalmente intendo dire Al termine della procedura di criptografia Altra possibilità Magari il tuo computer È dotato anche di lettore di schede Di smart card Beh, potresti anche utilizzare In alternativa Oppure insieme Alla password Dicevo potresti utilizzare Questa smart card Nella quale dovrai anche inserire Il pin relativo alla smart card E accedere Alla partizione Quindi ai file Soltanto se la smart card È inserita all'interno del lettore Penso comprenderai Che con una procedura Abbastanza semplice Hai un'affidabilità Molto ampia Una volta che avrai impostata La criptografia Ogni volta che Avvierai il computer Il sistema operativo Questa partizione Questo disco Sarà inaccessibile A chi non è autorizzato E per sbloccarlo Dovrai naturalmente Inserire la password Oppure la smart card Di qui sopra La finezza di tale criptografia È che addirittura Puoi rendere inaccessibile La partizione Il disco rigido Dove è insalato Il sistema operativo Allora potresti chiedere Ma come avvio Il sistema operativo Beh un po' articolato Per via di alcune impostazioni Ed hardware specifico Quindi ti accenno soltanto Brevemente A questa operazione All'atto della creazione Della criptografia Verrà generata Una chiave di avvio Che servirà naturalmente Per avviare Il sistema operativo Questa chiave Sarà possibile Memorizzarla In un dispositivo USB Ma non solo Quando si accende Il computer Ad ogni avvio Il sistema operativo Andrà a cercare Questa chiave di avvio E quindi naturalmente Dovrà aver inserito La periferica USB All'interno della quale È memorizzata appunto Questa chiave di avvio Se non la troverà Naturalmente Non si potrà avviare Il sistema operativo Essa conterà Ovviamente In questo caso La periferica USB La chiave di sblocco Bitlogger Che concorrerà A consentirti Naturalmente Ad avviare Il sistema stesso Esiste anche Un'altra opzione Senza dover utilizzare La pendrive Ma questa è ancora Un po' più ostica Perché Necessita Di un hardware specifico E di un BIOS Compatibile Solo per conoscenza È uno speciale microchip Chiamato Trusted Platform Model TPM Che deve essere naturalmente Presente all'interno Del computer E nel quale Chip Viene archiviata Naturalmente La chiave di Crittografia E decrittografia Per appunto Consentire L'avvio del sistema Operativo In mancanza Come detto Puoi utilizzare La pendrive Ma È necessaria Comunque Un'impostazione Per poter utilizzare Una periferica USB Dato che Per noi utenti Domestici Ritengo che La cosa più importante Sia la sicurezza Dei file personali Ricordo Da custodire Sempre In una partizione Creata ad hoc Appunto Andiamo a vedere Come utilizzare La funzionalità Bitlogger Per criptografare Questa partizione Lasciando In secondo piano Se vogliamo La criptografia Della partizione Dove è installato Il sistema operativo Ho scritto Che per visionare La partizione Disco È necessario Uno sblocco Con password O smartcard Tramite pin Nel caso Ci fossero Dei problemi A sbloccare L'unità In quanto Dovrai inserire Detto La password Del pin Puoi comunque Rimediare Grazie ad una Chiave di ripristino Che cos'è Durante la procedura Della prima Crittografia Verrà Generata Una chiave Di ripristino Che sarà Univoca E appartenente A quella Specifica Crittografia Che potrai Anche Memorizzare Dove meglio Credi Oppure Stamparla Scriverla O memorizzarla In qualsiasi Partizione O anche Periferica USB A cosa serve Questa Chiave di ripristino Se ad esempio Noti qualche Problema Come Non ricordi La password Di accesso Oppure Il pin Tramite la smartcard Potrai Inserire La chiave Di ripristino Nel campo Opportuno E accedere Naturalmente Di nuovo Alla partizione E quindi Ai file E le cartelle Prima di digitare La chiave di ripristino Però dovrai assicurarti Che quella Che hai A disposizione È effettivamente Quella Che è stata Generata All'atto Della criptografia Ecco che Durante la procedura Di ripristino Ti viene fornita Una stringa Alfa numerica Che dovrai Leggere E confrontare Con quella Che hai in possesso In pratica Avrai Mostrata Una stringa Alfa numerica Che ti servirà Per identificare La tua Chiave di ripristino Quindi Non dovrai Far altro Che leggere Questa stringa Alfa numerica E confrontarla All'interno Del file TXT Nel quale Si troverà Appunto La chiave di ripristino Dicevo Troverai L'identificativo Parziale O completo E dovrai Confrontarlo Con quella Richiesta Durante la procedura Di ripristino E In questo campo Inserire Tutta la chiave Di ripristino Fornita Se fosse Diversa Naturalmente Non potrai Utilizzarla Quindi Dovrai Recuperare Perfettamente Quella Di appartenenza Alla specifica Trittografia In caso positivo Naturalmente Digitala E recupererai Il completo Accesso Alla partizione Il ripristino Può avvenire Anche in maniera Automatica Questo se La chiave di ripristino È memorizzata Su una periferica USB Quindi durante la procedura Ti verrà chiesto Dove è presente Questa chiave di ripristino Indirizzandolo Direttamente Nella periferica USB La procedura Carpirà La chiave di ripristino E ti permetterà Ti consentirà L'accesso Alla partizione Decidi tu Qual è la soluzione Migliore Da praticare Bene Nella prossima lezione Terminerò La descrizione Della criptografia Bitlogger E andremo A mettere In pratica Quindi a visionare Come si utilizza Ora un forte saluto Ciao a presto Da caldo E alla prossima Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto